E' salpata ieri dal porto turistico Marina di Cala del Sol della CIA, imbarcazione battente bandiera olandese che nei prossimi dieci giorni sarà impegnata in forma volontaria staccata da Frontex in pieno canale di Sicilia dove presterà opera di volontariato in soccorso dei tanti barconi carichi di migranti che sfruttando le condizioni meteomarine favorevoli salperanno dalle coste del Nord Africa alla volta di Lampedusa e dell'Europa. Prima della partenza abbiamo fatto la conoscenza dell'equipaggio formato da otto persone al cui comando c'è il capitano Arno Hummel. Ci recaremo a 250 km dalla costa della Libia nel rispetto delle acque internazionali, le sue parole, portiamo viveri e beni di prima necessità e a bordo ci sono anche due medici, tra cui proprio il capitano, pronti a prestare cure ai migranti. La CIA aveva già tentato una sortita nel canale di Sicilia una decina di giorni fa, ma aveva dovuto fare rientro all'Icat a causa della tempesta di sabbia scatenatasi. Si tratta di un vecchio pescareccio che è stato rimesso a nuovo e impiegato per questa nobile finalità. L'imbarcazione arriva da Rostock, porto tedesco che si afface sul Mar Baltico e per l'equipaggio si tratta della prima operazione di soccorso. A colpirci è stata anche la particolarità nella gestione del natante. Non c'è infatti una precisa gerarchia a bordo e il comandante si alterna ogni settimana. Non sono mancati i curiosi che in questi giorni si sono interrogati sulla presenza della CIA all'interno dello scalo licatese. Sulla darsena del Marina di Cala del Sole, ieri mattina è stato stipato il carico portato a bordo dal natante, tantissima acqua, viveri e molti vestiti soprattutto per bambini pronti ad essere distribuiti ai profughi attualmente in attesa di partire dalle coste del Nord Africa per affrontare il viaggio della speranza attraverso il canale di Sicilia alla ricerca di condizioni di vita migliori rispetto a quelle attuali. A immortalare i momenti della partenza della CIA al Marina di Cala del Sole, ieri mattina era presente anche la troupe di una televisione tedesca.